La puntata di oggi è dedicata a Popoli. Popoli sorge nella gola dei Tremonti, che divide la Valle Peligna dalla Valle del Pescara. Fa parte della comunità montana Maiella e Norrone, ed il suo territorio appartiene al Barco Nazionale della Maiella. Il centro di Popoli sorge a ridosso della montagna, dominato dai ruderi del castello edificato intorno all'anno nuovo. Il centro storico ha mantenuto l'assetto medievale e nella centrale via Giordano Bruno si ammirano ancora le insegne delle antiche pontevi. Il paese ospita un gran numero di edifici religiose. Tra questi spicca la chiesa della Madonna delle Grazie e resta alla fine del Cinquecento e restaurata nel 1802 e nel 1913. Da visitare inoltre la chiesa di San Francesco del XVIII secolo. Con le nostre telecamere andiamo a visitare alcune aziende del posto. Il viaggio oggi ci porta a Popoli, all'autocorazzeria Antolini. Siamo qui col signor Gabriele Antolini, titolare dell'azienda. Ci parli un po' della sua attività. La mia attività nasce nel 1976, quindi sono 40 anni a gennaio. Sono contento di fare questo lavoro, mi piace. Di che cosa si occupa principalmente? Di riparazione di auto, camion, moto, un po' di tutto. Tutto quello che riguarda la carrozzeria in genere, la raddrizzatura, la verniciatura, non ho problemi. Lavora anche per qualche concessionario, assicurazioni? Sì, per le assicurazioni, sono fiduciario di due assicurazioni. Un concessionario qui di Popoli, Gian Antonio Racing Cars. Sì, anche ditte autotrasporti, insomma. Le auto come lavoro, ma anche come hobby, come passione? Hobby, qualche auto d'epoca, qualche moto, però il principale sono le riparazioni di auto moderne. Aperti da 40 anni, ma com'è nata questa carrozzeria? Piano piano, insomma, ho cominciato io, poi quasi subito è venuto il mio operaio, che è stato con me da 33 anni, però ha cominciato da apprendista, quindi ha fatto l'apprendista, è andato a fare il militare ed è tornato da me. E sono 33 anni che sta con me, quindi massima fiducia a lui e i miei clienti sanno che comunque la mia carrozzeria dà la massima fiducia, insomma. Come si vive qui a Popoli? Io lo ritengo molto bene, quindi anche tenendo presente il momento che è quello che è, però si sta benissimo, ci conosciamo tutti, quindi è un bel paese. Un ambiente molto familiare. Sì, molto. Di fatti i miei clienti sono quasi tutti diventati amici nel tempo, ecco tutto. Il viaggio continua a Popoli, siamo qui al Hotel Quattro Stelle Le Sorgenti con il gestore Giuseppe Carbone. Ci parli un po' del suo hotel. Allora, intanto grazie per essere passati qui da Popoli e qui all'Hotel Le Sorgenti. Niente, l'hotel è un bellissimo albergo di nuova costruzione, ha otto anni di vita. Abbiamo un eccellente ristorante, primo su TripAdvisor, quindi insomma riconoscimenti dovuti da tutti i nostri clienti che ci vengono a trovare. Abbiamo anche un'ottima pizza. Quindi ristorante, pizzeria, qual è il tipo di cucina e se c'è la possibilità di fare dei banchetti, ricevimenti? Assolutamente sì, abbiamo una sala più piccola qui a Piano Terra, dove appunto si svolge l'attività di ristorazione e pizzeria. La nostra ristorazione è sì tradizionale, ma rivisitata, altrimenti offriamo un servizio che copre un po' tutti i piatti italiani e siamo molto attenti alla cura del piatto, alla cura del dettaglio e nella sala al terzo piano abbiamo un ampio salone che può contenere fino a 200-250 persone. Lì è possibile effettuare banchetti e quindi comunioni, battesimi e ricevimenti di ogni genere. Per quanto riguarda l'albergo invece, quante camere sono disponibili? Le camere sono 22, abbiamo due camere per piano, sono delle camere superior con il tavolino, quindi con un tavolino dove è possibile effettuare delle cene in camera, con vasca e idromassaggio, con una zona living, quindi divano, per chi ha voglia di un po' di intimità. Siete disponibili per tutte le stagioni? Sì, siamo aperti tutto l'anno e per cui in qualsiasi momento è possibile soggiornare in albergo, pranzare o cenare al ristorante. Siamo sempre aperti. Quindi vi aspettiamo a Popoli. Grazie mille. Grazie, grazie a voi. Grazie. A Popoli, supermercato Conad, 1200 metri quadri di negozio per la tua spesa. Supermercato Conad effettua anche pagamento bollettini postali, fotocopie, fax, ricariche telefoniche, pagamento buoni pasto. Agricarni Cidonio, produzione propria con allevamento tradizionale. Prosciutti, salumi, salsicce sott'olio e carni fresche, di agnello, maiale, vitello e coniglio. Bed & Breakfast Casale delle Rose, quattro camere eleganti e confortevoli. Eventi e catering su richiesta. Bed & Breakfast Casale delle Rose, ampio spazio esterno e parcheggio privato, aperto tutto l'anno. Take your time and I'll be having...